Grazie a tutti. Valevole per la seconda giornata del girone dove l'Italia è inclusa insieme all'Argentina, Ayuki e la Polonia per questo mondiale di calcio del 74. Azzurri che scendono in campo con Albertosi, Sabadini, Spinosi, Benetti, Bellucci, Fanchetti, Giuliano, Receconi, Rivera, Morisegna e Riva. Argentini che rispondono con Cannevalli, Telche, Eredia, Oseman, Wolf, Sa, Cazzarretta, Campes, Brindisi, Bebinton e Balbuena. Tutto è pronto, partiti. Giuliano. Ci sono dei cambi nella nostra formazione, partono infatti i titolari Sabadini e Receconi e CT Azzurro che ha preferito ancora una volta Giuliano. a Sandrino Mazzola e c'è questo attacco della nostra nazionale che però è vanificato dal fuorigiocco di Giuliano. e con l'inserimento del nostro giocatore Giuliano che ha giocato un'ottima gara che gli è valsa quindi il posto da titolare, un'ottima gara contro la formazione di Haiti, Balbuena, Wolf. E' importante non perdere questa partita e bisognerebbe cercare del modo più assoluto di portare a casa il risultato. Brindisi, fermato, Receconi, Bonisegna, avanza Bonisegna, 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 prova il tiro e Murato, le difesioni argentini, poi c'è Gigi Riva, vai fuorigioco. Buon inizio comunque della nostra squadra, argentini che giocano senza perfume che è stato espulso nella precedente gara, un'espulsione assolutamente gratuita a nostro avviso, che ha tolto la possibilità al forte difensore, nonché capitano della nazionale argentina, di affrontare gli azzurri, Brindisi, Brindisi, fermato dall'intervento di Spinosi, da questi a Rivera, avanza Rivera, Giuliano, Riva, Rivera, insituisce il pallone a Riva, i due si accompagnano sulla... e combinano un bel pasticcio, palla in fallo laterale. Carlevali, Penedia, Brindisi, Tempes, Wals, opera il cross in favore di Balbuena e poi la nostra difesa riesce a liberare senza affanno, Bonisegna, avanza Bonisegna. Ottime le prove di Borimba, si qui, sempre rete, attenzione Balbuena, Benvington, Balbuena, fermato dall'ottimo intervento di Facchetti che poi rilancia l'azione azzurra, Riva, il bomber del Cagliari va via sulla sinistra, inseguito da Sa, riesce a crossare Riva, il colpo di testa di Riva e la palla che termina sul fondo. Non è riuscito a centrare la porta il capitano del Milan su questo cross di Gigi Riva, palla abbondantemente a lato. Giuliano, avanza Giuliano sul settore destro, Giuliano, entra in area il passaggio, pallone intercettato dalla difesa argentina e quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo della portiere Cannavali. Rimessa già effettuata, palla recuperata dagli azzurri, Bonisegna, avanza il bomber dell'Inter, Bonisegna, Bonisegna, va via sul settore destro, si gira, cerca il cross ma è fermato in fallo laterale. Giuliano, il cross, intercettato da Eredia che mette fuori area, Canpes, da questi a Brindisi. Balbuena, Bevington, ancora Balbuena, libera molto bene la nostra difesa e quindi Bonisegna può ripartire, Bonisegna punta l'area, Bonisegna, Bonisegna è il tiro di Bonimba, la palla che termina fuori. Mi ricordo il risultato, siamo sempre sullo 0-0. Azzurri che stanno giocando molto bene questa partita, con ordine, si difendono con ordine e riescono poi a ripartire facendo, impenserendo più che altro la difesa argentina. Azzurri che giocano, ricordiamo, con una formazione diversa rispetto a quella che ha affrontato la nazionale di Haiti, in campo ci sono Giuliano e Receconi. Adesso la formazione argentina che avanza, Brindisi, Brindisi atterrato, l'arbitro dice che non c'è fallo e quindi si può proseguire. Rivera, 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 fermato, Rivera, recupera Receconi, Bonisegna, Giuliano. C'è il calcio di punizione in favore della nostra nazionale, c'è il cartellino giallo per Ciazzarretta, per l'intervento su Giuliano. Calcio di punizione alla battuta, Rivera. parte Rivera, la palla verso la porta, però è troppo alta e pertanto, ecco, lo vediamo anche da questa bella inquadratura e si riprende con un calcio dal fondo. Carnevali, palla che marca l'asse centrale del campo, recuperata ancora una volta dagli 0. Attenzione, Bonisegna, Bonisegna, sbaglia tutto, Bonisegna avrebbe potuto tentare di avanzare in aria. Receconi, in tiro di Receconi, la palla che termina fuori. Quanto manca la prova del giocatore laziale, fresco, campione d'Italia con la Lazio di Maestrelli, rivediamo il suo tiro. Borimba, Receconi, Facchetti, Sabadini, promosso titolare Sabadini. Va voluto dare più velocità ai terzini, i valcareggi, mettendo Spinosi e Sabadini sulle fasce. Ciazzarretta, Balbuena, Pemington, avanza l'Argentina con Ciazzarretta, Ciazzarretta, Balbuena, Balbuena, Balbuena lo va a disturbare, Iuliano che li porta via anche il pallone, poi l'intervento ancora di Balbuena, palla che termina in fallo laterale. Iuliano, Bellugi, Facchetti, Borimba, Rivera, Rivera il tiro, la palla che viene sborzata e esce fuori, quindi calcio d'angolo in favore degli azzurri. C'è stata questa palla toccata. Calcio d'angolo, palla fuori, Iuliano, il tiro di Iuliano, la traversa di Iuliano e poi Rececconi, palla che termina alta. Bellissimo il tiro di Iuliano, rivediamolo. Il calcio d'angolo, palla che viene messa fuori, Iuliano di prima intenzione al volo, di destro va a colpire la traversa in pieno, poi Rececconi prova con questa semi rovesciata e non ce la fa. Finisce il primo tempo, Italia e Argentina 0-0 con gli azzurri che hanno disputato un ottimo primo tempo, ci risentiamo dopo. Riprendiamo il collegamento per questo secondo tempo tra Italia e Argentina. Partiti, Brindisi, Eredia, Sa, Cianzaneta, Balbuena, azzurri che hanno disputato un ottimo primo tempo contro gli argentini, adesso Iuliano che si porta all'attacco sulla fascia destra, ottima l'inclusione del giocatore del Napoli, per il cross, ci sono stati tre cambi nella nostra zona nazionale, Capello per Ececconi, Anastasi per Bonisegna e Chinaglia per Gigi Riva. Capello, tocca il suo primo pallone, Fabio Capello. Capello, il cross, la palla per Chinaglia, anticipato dal difensore argentino. Brindisi, Benetti, Anastasi, anticipato, Balbuena, avanza Balbuena, il tocco per Cianza Retta, Sa, Babington, Albertosini è stato impegnato neanche una volta nel corso del primo tempo, intanto questo cross nella nostra area, Pietro Anastasi, va via Anastasi, va via in velocità, il tocco centrale per Chinaglia, attaccato da Ciazzarretta che gli porta via il pallone. Rimessa laterale per la nostra squadra, Rivera, Rivera, prova il tiro, Rivera e la palla termina fuori. Rivera che sta osando nel corso di questa gara, come non mai, lancia i propri compagni quando può, quando vede la porta, prova anche il tiro. Brindisi, Anastasi, recuperato il pallone, punta alla porta Anastasi, va via Anastasi, fermato, Telc, da questi a Sa, Hauseman, Babington, Babington, Benetti a distobarlo, ottimo il take del biondo centrocampista, Iredia, Wolf, Kempis, va via Kempis, lo disturba Giuliano, poi Sabadini riconquista il pallone, rimette in movimento l'offensiva azzurra, Chinaglia, un po' lento Chinaglia nel, in questo inizio di gara, Benetti, Anastasi, 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 va sul fondo, il cross per Chinaglia, palla che termina fuori, non impatta bene con il pallone, anche perché è stato deviata, calcio d'angolo, Cappello dentro per Chinaglia, Iredia, allontana, Giuliano, al limite, Giuliano, Giuliano, cerca lo spazio, poi il tocco all'indietro per Sabadini, da questi a Cappello, salta il suo marcatore, il cross al centro e poi allontana Brindisi, intanto c'è un cartellino giallo per Wolf e francamente non capiamo se questo dovesse essere un fallo, rimaniamo basiti, comunque calcio in posizione, Rivera, Gittina che ha protestato in maniera, attenzione intanto c'è questa offensiva di Oseman, in maniera, dicevamo, argentini che hanno protestato in maniera pesante contro i dirigenti della FIFA per l'espulsione, a mio avviso, abbastanza gratuito, di perfumo e adesso si vedono a filiare un giallo per un fallo che in realtà non c'era, va detto con onestà, comunque fortunatamente non è stato espulso il giocatore argentino, è già qualcosa, Oseman, Tempes, Sa, Iredia, Telci, da questi a Vargas, il lancio per Brindisi, interzettato, ancora Brindisi, prova ad andare via sulla falsa Brindisi, Cappello mette il pallone in fallo laterale e quindi si prenderà con la rimessa degli azuntini, Cappello recuperato il pallone e rilancia verso Chinaglia, troppo il pallone, viene recuperato dalla difesa argentina che fa ripartire l'offensiva, Margas, Margas, punta l'area, Margas fermato, Giuliano, Anastasi, avanza Anastasi, Anastasi, il tocco all'indietro per Giuliano, da questi nuovamente in avanti per Anastasi non è anticipato e quindi gli argentini tendono ancora il pallone, Rivera, Rivera, prova il tiro, Rivera e c'è la grandissima parata di Carnevali, grandissima la conclusione di Gianni Rivera, pallone parato, non senza difficoltà da Carnevali, ecco, rivediamo l'ottima parata del portiere argentino, calcio d'angolo, ottima la conclusione di Rivera, diretti alla battuta, palla dentro, Rivera, gol, gol degli azzurri, Rivera ha portato in vantaggio in Italia con un bellissimo colpo di testa, degno di uno sfondatore di Repi, Gianni Rivera ha portato in vantaggio gli azzurri e non certo con uno dei suoi colpi migliori, colpo di testa, Rivera che predilige la conclusione di piedi a rete, ha comunque colpito e messo in rete la palla del vantaggio azzurro e adesso dobbiamo assolutamente tenere questo vantaggio fino alla fine, di modo che possiamo affrontare la Polonia con quattro punti che valgono la testa della classifica del nostro girone, Rivera, splendida la sua prova, Giuliano, tempo, Saiala, Capello, Rivera, 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 avanza Rivera, fermato, Brindisi, Ouseman, Ouseman, Facchetti riesce a respingere, quindi Sabatini, il rilancio di Sabatini verso la Stasi che viene poi anticipato da Erenia, terzo dietro per Carnevali, perdita che si scalda proprio nei minuti finali, azzurri che non si chiudono e che anzi cercano di colpire ancora l'Argentina, attenzione Brindisi, esso Albertosi salvando il risultato, grande uscita di Ricchi Albertosi che con grande freddezza si butta sul pallone a recuperare una situazione ed è finita, è finita, gli azzurri battono l'Argentina, un'oretta zero, gol di Rivera, Donaldo Martellini tutto, linea allo studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti